Penso che a livello attuale abbia subito chiaramente delle influenze positive rispetto al passato e quindi sicuramente la presenza femminile oggi nel mondo dello sport si è sicuramente evoluta, è sicuramente una presenza che però può essere oggetto di ulteriori miglioramenti sia da un punto di vista della pratica sportiva sia da un punto di vista dell'applicazione delle donne per quanto riguarda le figure tecniche e le figure dirigenziali, per cui sicuramente è un ambito su cui credo si possa lavorare con grandissima soddisfazione guardando ad un futuro dove le donne possono avere dei ruoli ancora più ampi, per esempio ritengo che da un punto di vista tecnico, quindi per quanto riguarda appunto la figura del tecnico l'apporto delle donne sia importantissimo soprattutto per l'avviamento allo sport.